benvenuti nel mio canale siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica l'ultima versione di khan yaman ha sorpreso tutti la sua schiena è graffiata khan yaman trasferitosi in italia dopo il finale della serie bay rong in onda su fox tv continua la sua carriera all'estero il famoso attore spesso all'ordine del giorno con i suoi post e le sue dichiarazioni sui social media è andato davanti alla telecamera per il suo nuovo progetto lo stato finale di yaman ha sorpreso tutti khan yaman che si è fatto un nome con produzioni come early bird e in an ask è all'ordine del giorno con ogni sua dichiarazione e ogni sua condivisione coloro che hanno visto la versione finale del famoso attore particolarmente apprezzato dalle donne sono rimasti molto sorpresi la famosa attrice che continua la sua carriera all'estero è andata davanti alla telecamera per il suo nuovo progetto la schiena del giocatore è stata graffiata durante le scene di combattimento condividendo lo stato della sua schiena con i suoi follower sul suo account sui social media yaman ha dichiarato sto aspettando una serie emozionante un personaggio fuori dagli schemi è una produzione di alto livello e non vedo l'ora cosa ne pensi di khan yaman cosa ne pensi di questo video non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti era così nelle nostre notizie se ti piace premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti ciao e ci vediamo al prossimo video